Allora, di buono è che abbiamo aspettato la nostra identità dal punto di vista difensivo, del controllo dei rimbalzi in partita di questo tipo è fondamentale e di non buono è che dobbiamo diventare capaci di esprimere tutto il buono che ognuno di noi può mettere anche in poco tempo, perché altrimenti allungare le rotazioni non diventa un pregio e invece noi dobbiamo fare in modo che diventi un pregio, quindi questi sono i due aspetti fondamentali secondo me. Alla fine aver di nuovo avuto la capacità di controllare difensivamente la nostra area e la capacità di controllare i rimbalzi è la cosa che ha fatto la differenza, quindi la partita l'abbiamo meritatamente vinta perché questi due aspetti sono i due aspetti fondamentali, sono quantitativi più che qualitativi, quindi dal punto di vista della qualità possiamo fare meglio, però intanto noi abbiamo bisogno di vincere, di continuare a tenere la barra dritta, sapendo che veniamo anche da una penalizzazione che onestamente ci mette in difficoltà dal punto di vista della classifica, però noi guardiamo al nostro record piuttosto che alla nostra classifica e guardiamo a questi due aspetti di solidità che non devono mai mancare perché se non mancano mai puoi perdere una partita ma intanto rispetti te stesso e questa è la prima cosa.